Il nuovo spettacolo di Paolo Franceschini, sono qui con Francesco Damiano, complice di questa creazione, di questa regia, di questo nuovo spettacolo e sono molto contento. Oltre ad aver portato una bici sul palco, ha portato degli insegnamenti che possano aiutare a cambiare un po' il mondo, l'ambiente e un po' la testa delle persone, perciò doppio bravo per Paolo. Grazie. Grazie.